Una grande festa, fuochi d'artificio, spumante e domani giornata di riposo magari. Sì, dopo tanti mesi di campagna elettorale domani ce li richiamo a riposo, però siamo felicissimi, davvero un risultato atteso, però fino all'ultimo incerto, per cui molto molto felici. La città ha premiato i due mandati di Tiziana Magnacca, ci sembra di capire. Sì, direi proprio di sì. Ha premiato la continuità, ha premiato la squadra coesa, compatta, che ha dimostrato di saper fare, di saper amministrare e soprattutto di essere unita da determinati valori. Ecco, da dove ripartire? Beh, ripartiamo da tante cose che erano in programma, erano in itinere, tanti progetti già finanziati, per cui sarà semplice rimettersi al lavoro. E invece una parola al suo avversario, che campagna elettorale è stata anche in questo ballottaggio? Purtroppo è stata una campagna elettorale molto accesa, molto animata, anche da sentimenti non troppo positivi, quindi mi auguro che da domani torni tutta la normalità e potremo lavorare comunque con una squadra unita e con correttezza soprattutto. Carmine, domande per Elena Sindaco? Beh, intanto congratulazioni e poi una domanda rispetto alla composizione della sua squadra, se ha già pensato, insomma, se premierà i più votati oppure se nell'aggiunta si affiderà anche alle competenze a qualche assessore esterno, se ci ha già pensato. Entrambe le cose, adesso ci ragiono meglio e poi, insomma, prenderò la mia decisione. Sicuramente il bacino elettorale di ogni candidato sarà molto importante, ma anche le competenze di ognuno di loro. Un'idea di Massima? No, non ce l'ho ancora, è troppo presto, adesso sono prastornata. Grazie.